Qual è il più grande nemico della costanza e della pazienza per un parrucchiere? La genialità, la parte artistica, il voler innovare, fare una cosa diversa. Oggi mi sveglio, ma se oggi voglio fare un video accattivante, che dia qualcosa in più, la novità, che è un po' quello che i parrucchieri si sono sempre portati dietro nel tempo. E invece no, quello che bisogna fare è, una volta costruito il tuo modello, picchiare fino alla noia, la noia maledetta, la tua, dei tuoi collaboratori, dei tuoi clienti. Devi essere sempre quella roba lì. Solo così diventi davvero un'icona, una persona autorevole, rimanendo fermo nel tuo modo di registrare i video, di pubblicarli e di dire le cose. Questo fa la differenza, sempre. Sempre.